Le potenziali future bombe reali del Prince Harry sono state rese irrilevanti, secondo gli esperti reali, dopo l'ultimo intervento della regina. L'impatto dell'autobiografia del principe Harry, che uscirà entro la fine dell'anno, è stato inferto dalla regina. Gli esperti reali hanno lasciato intendere che le memorie di Harry discuterebbero del tumultuoso matrimonio dei suoi genitori e potenzialmente conterrebbero rivelazioni che la reputazione della duchessa Camilla. Tuttavia, la regina sembra aver evitato qualsiasi complicazione rivelata nel libro esprimendo il suo desiderio che Camilla diventi regina consorte quando il principe Carlo sarà nominato re. Il monarca pose fine ad anni di incertezza dichiarando che era il suo sincero desiderio che la duchessa di Cornovaglia fosse pienamente riconosciuta quando suo figlio salirà al trono. La regina ha sfruttato l'occasione del suo giubileo di platino in occasione dei 70 anni sul trono per fare l'annuncio. Il direttore del Daily Mail Diary, Richard Eden, ha affermato che l'annuncio della regina ha anche fatto fallire l'impatto di qualsiasi rivelazione reale nelle memorie di Harry. In precedenza si pensava che la prospettiva che Harry rivelasse i suoi pensieri sulla matrigna nella sua prossima autobiografia fosse un potenziale ostacolo alla promozione di Camilla. Tuttavia, il signor Eden ha affermato che l'intervento della regina sabato scorso ha reso discutibile qualsiasi cosa Harry potesse dire. La conduttrice di Mail Plus Palace Confidential, Joe Elvin, ha dichiarato, pensi che parte di questa mossa sia premediata per scongiurare eventuali complicazioni rivelate in quel libro. Il signor Eden ha risposto, sì, ogni resistenza a Camilla che diventa regina si è dissipata grazie a questo annuncio. La maggior parte delle persone pensa che se è abbastanza buono per la regina, è abbastanza buono per me.